Grazie a tutti. Mamma mia. Asso. Eh, senza catena. Che non ho neanche la catena. Eh, ma non mi fa mettere l'ansia. No, 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 no. Dai, dai. Dai, tranquillo. Dai, dai. Due, uno, vai. Piano, delicato. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Vai, 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 che sta pure niente. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Antonio. 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 Vai, vai, a sinistra. Vai. Gula. Gula. Vai, vai. Al secondo posto M2 Vieni. Vieni. E al primo posto M2 Altanazio Daniele. Ehi. 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 Ehi.